Ciao tifosi dell'Inter, benvenuto nel nostro canale di notizie. Oggi abbiamo una grande notizia da condividere con voi sul possibile ritorno di Skriniar per la partita contro il Benfica in Champions League. Non perdere nessun dettaglio e rimani sintonizzato sul nostro canale. Iscriviti e attiva la campanella di notifica per ricevere le prossime news, si parte. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo perché Milan Skriniar tornerà per l'andata contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Nonostante soffra di lomboglutalgia da febbraio, lo slovacco è stato curato con terapie specifiche ed è già in fase di recupero. Si vocifera che potrebbe essere convocato per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus o per la gara di Salerno in vista della decisiva sfida di Lisbona. Intanto vanno bene Gosens, Di Marco e Bastoni, ma Dzeko è alle prese con il mal di schiena. Nonostante i problemi fisici, l'Inter è fiduciosa che Skriniar sarà pronto per la battaglia contro il Benfica. Anche se non è stato ancora confermato se farà parte della rosa di Inter Fiorentina, è probabile che venga inserito nella lista che verrà consegnata all'arbitro di Juventus Inter o Salernitana Inter. Inzaghi vorrebbe che Skriniar fosse messo alla prova prima di utilizzarlo nella partita contro il Benfica, ma questo deve ancora essere confermato. Ehi, lascia il tuo like per rafforzare la famiglia nerazzurra da queste parti, grazie. Intanto, gli altri nerazzurri assenti di recente stanno facendo un lavoro diverso in campo. Di Marco, Gosens e Bastoni si stanno già allenando e dovrebbero essere pronti per la partita contro la Fiorentina di sabato prossimo. Dzeko è però tornato con mal di schiena dopo la convocazione in Bosnia ed è in corso di valutazione dopo alcune terapie specifiche. Con tanti appuntamenti ad aprile, l'Inter non vuole affrettare il recupero di Dzeko, ma è fiduciosa di avere Skriniar in campo contro il Benfica. Una notizia molto positiva per i Milan che spera di accedere alle semifinali di Champions League e vincere titoli importanti in questa stagione. Skriniar può tornare per la partita contro il Benfica in Champions League e vogliamo sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto se sei entusiasta della notizia, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle notizie quotidiane dell'Inter, fino alla prossima volta.